benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri il pettirosso e babbo natale di john fernley gribaudo editore c'era una volta un piccolo uccellino marrone si chiamava robin e questa è la sua storia era la settimana prima di natale il piccolo robin era molto emozionato lavò e stirò sette vestiti per le gelide giornate in arrivo indossò il vestito bianco e andò a pattinare sullo stagno ghiacciato allo stagno incontrò il ranocchio ho tanto freddo disse il ranocchio mi puoi aiutare l'uccellino diede al ranocchio il suo vestito bianco ho altri sei vestiti pensò guardando il ranocchio che saltellava felice pettirosso e babbo natale è una storia bellissima scritta da john fernley traduttrice daniela gamba gribaudo editore john fernley è nata nel 1965 in inghilterra e laureata in educazione in progettazione grafica ha lavorato come educatrice della prima infanzia ed è anche autrice illustratrice di storie per bambini questa storia è meravigliosa per protagonista l'uccellino marrone robin che la settimana prima di natale prepara dei vestitini da indossare ogni giorno quando esce però che cosa succede che incontra sempre qualcuno che ha tanto freddo e che ha più bisogno di lui allora decide di donare i suoi vestitini i giorni passano arriva la notte di natale e robin ha terminato tutti i suoi vestitini e per giunta ha anche tanto tanto freddo ma ecco che arriva babbo natale e decide di prendersi cura di robin lo porta a casa sua e l'acce sua moglie che gli crea un vestitino rosso un vestitino davvero speciale che distinguerà robin da tutti gli altri uccellini con il nome di petti rosso questa storia è molto bella e ci insegna a essere altruisti e generosi a donare senza chiedere nulla in cambio le illustrazioni sono bellissime e anche tanto curate e questa storia piacerà sicuramente a tutti i bambini e allora non mi resta che augurarvi buona lettura ma soprattutto buon natale se volete seguitemi sul mio blog www.pagineedautore.it oppure scrivete alla mia mail o ancora mi trovate sui canali social facebook e instagram ancora buon natale www.pagineedautore.it www.pagineedautore.it